Salve a tutti senza luce, benvenuti in un nuovo video qui su Top Games, io sono Samuel e sono in via di guarigione, è rimasta solamente la tosse che mi farà fare tanti tagli durante questo video, ma quelli sono affari mie e non vostri giustamente. Oggi ci troviamo in questo video a farmare un'altra armatura che oltre ad essere rara e pallosa da farmare, è bellissima. 16 ore fa, proprio 16 ore fa, ho ricevuto un commento sotto il video dello scudo che troverete qua sopra da qualche parte, di FQD, che recita Vado un po' off topic, ma non troppo, ma è possibile che nessun canale italiano abbia mai mostrato l'armatura che droppano i cavalieri esuli di Castle Sol? Solo quello potentissimo con la doppia spada o quello che si trova in mezzo ai tre lupi la droppano, oltre ad essere bellissima, è un'armatura fortissima. E, come gli ho risposto io, effettivamente era nell'elenco delle cose da fare, e mi sono selezionato un tot di armature, un tot di armi, che so che hanno un basso drop rate che non tutti sanno dove farmare, ed ho deciso dunque di iniziare a farle piano piano a scaglioni. Ed eccoci qui, è arrivato il momento del set del Cavaliere Esule. Prima di continuare con il video però voglio ritagliarmi il solito momento di tempo per ringraziare tutti quegli utenti che hanno deciso di supportare il canale sfruttando abbonamenti e super grazie. Grazie a voi siamo riusciti ad acquistare dei giochi, da portare sul canale, del materiale per dei video, ed oltretutto siamo riusciti a migliorare la qualità grafica del canale. Quindi signori, grazie. E già che ci siamo, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like ed un commento qui sotto, ed attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. E se avete anche voi il piacere di supportare il canale, qui sotto in descrizione trovate tutti i link utili come gli abbonamenti di Supergrazie, ed anche il nostro gruppo Telegram, dedicato ai risconti per gamers poveri. Arriviamo all'armatura da Cavaliere Esule. Bellissima armatura tra l'altro, a me piace molto di più la versione non alterata. Partiamo dal presupposto che c'è un quipro quo. Ci sono due elmi, alterato e non alterato, e due busti, alterato e non alterato, e guanti e gambe. Quindi è un set completo con due opzioni in più. L'opzione naturale è quella con la sciarpa e col mantello rosso, l'alterata è quella priva di tutto ciò. Quindi andiamo a leggere la descrizione ad esempio dell'elmo da Cavaliere Esule con la sciarpa. Robusta armatura progettata per coprire l'intero corpo. Questo elmo era indossato dai cavalieri che, per sventura o malacondotta, erano costretti ad abbandonare le loro terre natali. Forse la sciarpa rossa aveva lo scopo di proteggere dai venti, giacché le brezze sferzano con ferocia nelle regioni di confine. Mentre nella versione alterata possiamo leggere Erano tutti guerrieri feroci e dotati di estremo talento. Per questo, probabilmente, conservavano il titolo di cavalieri, nonostante la disfatta. Adesso, prima di andare a farmare il set, voglio ritagliarmi un altro momento di tempo, lo so, perdonatemi, ma questo è per voi. Io vi ho sempre ispirato come alzare l'arcano e la scoperta di un po'. Ma in realtà c'è un modo ancora migliore per alzare il tutto. Io di base, con le mie statistiche, e quindi 416 livelli, ho un livello di scoperta di 150. Come facciamo a farlo salire? Io vi ho sempre detto equipaggiate la maschera della lacrima d'argento, che fa salire l'arcano ed aumenta la scoperta, e lo scarabeo d'argento. E ok. Però, giustamente, Limonades, un altro utente che ha commentato, due ore fa, mi ha fatto notare una cosa. Ragazzi, non lo dite mai nei video, ma si può incrementare ulteriormente l'arcano tramite il talismano sigillo piaga di Marika, e attivando la runa maggiore di Godric. Dunque, se io attivo tutto questo equipro qua, a quanto arriviamo? Prima di andare a farmare, ho deciso di mettere la maschera della lacrima d'argento, lo scarabeo d'argento, il sigillo piaga di Marika, ed attivare la runa di Godric. Ho portato il livello di scoperta a 243. E a dire la verità, prima di morire, perché mi sono lasciato morire apposta nel video per poter, insomma, farvi vedere la scoperta base e il processo, ero a 255. Non so dove siano spariti quei punti in più, ma va bene così. Comunque 243 direi che è un bel aumento. In ogni caso, dove andremo a farmare? E qui la situazione si fa in realtà complicata, perché questa non è un'armatura semplice da farmare. Come vi dicevo, questa armatura è composta da elmo armatura, guanti e gambe, più versione di elmo armatura alterate. Qual è il miglior posto per farmarla? Castle Sol. Castel Solo, Castello di Solo, come lo volete chiamare, nelle lande innevate, ha un singolo nemico che ci darà l'elmo alterato, il busto alterato, il busto non alterato, guanti e gambe. Quindi potremo ottenere ben 5 pezzi su 6 che possiamo farmare in totalitario. Ora, per raggiungere questo cavaliere il percorso è il seguente. Quello che vi vedrete fare, dobbiamo salire una scaletta, arrivare fino ad uno coi lupi ed io qui mi sono equipaggiato la pietra di Gurang in modo da avere qualcosa da lanciare dietro ai lupi senza ritrovarmi in una maxi orgia e dover sfruttare la fiumi di sangue visto che questi cavalieri non è che siano proprio i più simpatici del reame. Torno a ripeterlo, questo è l'unico cavaliere che darà l'elmo e l'armatura alterati, quindi privi di sciarpe e cappuccio. Alternativamente, se volessimo ottenere l'elmo non alterato e l'armatura non alterata dovremmo recarci in altri lidi. Considerando che possiamo farmare tutto da questo ragazzo qui, meno l'elmo non alterato dobbiamo trovare un altro posto dove farmarlo. La wiki di Elden Ring ci consiglia di farmare questi cavalieri a Castello Gran Tempesta, a Farumazula oppure alla Cattedrale della Comunione Draconica di Kaelid, ed è dove andremo noi. Dunque, ci rechiamo lì e ci ritroveremo davanti direttamente di spalle il nostro cavaliere esule. E che fai? Non gli metti la spada nel culo? Bravi, continuate così fino a che non troverete l'elmo. E da questo punto avrete ottenuto tutti e sei i pezzi che vi servono. Adesso però, se voi avete già trovato sia l'elmo non alterato che il busto alterato e non, vi mancano guanti e gambe. E questo non è più un problema perché guanti e gambe ve lo danno a prescindere qualsiasi nemico. L'unica pecca, l'unica rottura di palle è ottenere l'armatura non alterata o alterata e l'elmo non alterato o alterato. Il nostro punto di riferimento è il Banished King o Cavaliere Esule di Castle Soul. Dovrete farmare lui un sacco di volte costantemente. A questo punto farvi anche quello che è fuori dalla chiesa così magari vi droppa qualche pezzetto in più, visto che gli potete fare un backstab. E poi massacrare quello alla comunione draconica di Kaelid. Questi sono i nemici che secondo me dovrete devastare per ottenere l'intero set. E alla fine della fiera direi che va più che bene. Io non saprei più che altro dirvi. Questa è un'armatura davvero bella, sia in forma pesante che in forma non pesante. L'unica cosa che forse non mi piace sono i piedi a papera, ma si può benissimo risolvere cambiando le gambe dell'armatura. Io ad esempio mettevo busto ed elmo, quelli col mantello e la sciarpa, e tenevo guanti e gambe di Blade, che a me piacciono molto esteticamente. È un'armatura che bisogna avere, è un must have, e oltretutto è l'unica armatura pesante che effettivamente ha un aspetto davvero bellissimo e fiero. Quindi, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like ed un commento qui sotto ed attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. E se avete anche voi il piacere di supportare il canale, qui sotto in descrizione trovate tutti i link utili come gli abbonamenti ed i super grazie. Ed anche la nostra wishlist Amazon, che è messa lì puramente a caso. Salve a tutti senza luce, ci vediamo in un prossimo video. Grazie a tutti.